Il nostro paragone è MFA Paradeira, il cammino di Awe è introduzione una linea di bus che comincia a correre tra la nostra stazione di bus di Orainstad e MFA Paradeira. E' un'altra cosa che noi attrezziamo per portare un'altra servizio alla MFA, guardando che ultimamente MFA Paradeira ha cominciato a operare e sta rendendo rupi e popularità grande, quindi noi stiamo rendendo peticioni per il sacco e per il motivo è che noi decidiamo introduzire una linea di bus quale sta accorrendo, non è un momento che sta accorrendo un via per ora, noi stiamo a cercare qualcosa che lo traga, noi lo pubblicano e scadulano dentro del medio di prensa e anche, arriva nella nostra website e nella nostra Facebook page, cammino con il bus che sta salendo fuori di Orainstad, da nostra stazione di playa, è passato da John Hay e Monstrat, tiene una retonda di Cerro Blanco e non è venendo a strada, con il cammino di Cerro Blanco, tiene una retonda di Paradeira e non è venendo a qui. Ora di vai back, lo è corre e messo un'ruta a qui, solamente con ora che sta arrivando a una banca di misa di playa, lo è tenuto a Conningstrat, d'ora che ti è verbodo nemmeno, ora lo è tenuto a Conningstrat e da vai tenuto una retonda di Parnabai Strat, e è da direnta back nel gebouro di Trem, ben back nella nostra stazione di Orainstad. Questa è passata in 3 giorni, quindi è comissata, è prima che sta salendo 4 ore e mei per il giorno, e l'ultima che sta arrivando a un'esercitazione di 2 ore e mei per 3 ore, nella nostra stazione. Quindi è passato, è normale, non è possibile di AroBus, può usare carri, può smartcard, può pagare cash, quindi è facile e è passato per servizio di unità. Grazie.